Prima di avviare il video, un gentile promemoria, assicurati di premere il tasto Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie. La situazione giuridica di Filippo Turetta ha subito un significativo cambiamento. L'accusa di tentato omicidio è stata aggravata in omicidio volontario dopo il suo arresto avvenuto domenica scorsa in una stazione di servizio vicino Lipsia, in Germania. Attualmente, sono in corso le formalità per l'estradizione di Turetta, che si trova in un penitenziario tedesco a seguito dell'omicidio di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata. Il suo legale ha dichiarato che il 22enne è in uno stato di sofferenza, non riesce a dormire di notte e teme possibili ritorsioni da parte degli altri prigionieri, legate alla sua relazione con Giulia. Il comportamento persistente di Turetta, descritto come tipico nei giovani di oggi, è stato collegato alla sua relazione con la vittima. L'arresto è stato deciso dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo, che ha emesso un mandato di cattura europeo eseguito poi in Germania. Secondo il mandato, l'aggressione reiterata di Turetta nei confronti di Giulia Cecchettin ha rivelato una grave incapacità di autocontrollo da parte sua.